C'è molta più gente pulita di quanto le possa immaginare in questo paese. Non faccio il comunista Pasolini, noi siamo italiani, siamo tutti figli di Don Abbondio, siamo vigliacchi, anzi no peggio, opportunisti. Alla fine tutti ci hanno guadagnato qualche cosa da questa morte di Pasolini o forse tutti abbiamo perso qualche cosa, chi lo sa. Quelli che hanno guadagnato è un tra virgolette guadagnare perché è uno speculare sulla figura di Pierpaolo che ci ha perso come noi, quelli che ci stanno guardando in questo momento, hanno perso un gigante della letteratura, della cinematografia, del giornalismo italiano, un gigante. Ecco, noi facciamo parte di quelli che sono orfani, sono orfani di questo genio. Dovevo sapere che parte faccio? Facciamo parte di un pischiello che ammazzano frutti, pensa un po'. Ma anche per Massimo, che è un artista popolare come pochi in Italia, interpretare un personaggio controverso, sappiamo ancora quanti insulti si rivolgono nei confronti di Pasolini, anche dopo 40 anni che è morto, per lui era solo rischio, solo rischio. È la prima volta che vengono raccolti in un volume gli articoli di un giovanissimo don Aroncalli, futuro Giovanni XXIII, che mettono in luce le doti giornalistiche e saggistiche del Papa Bergamasco diventato santo. È l'inedita raccolta di articoli pubblicati da Aroncalli tra 1909 e 1910 sulla vita diocesana, organo ufficiale della diocesi di Bergamo. Il primo di tre volumi delle edizioni Studium, la cui pubblicazione fa parte del progetto Aroncalli e Bergamo, promosso dalla Fondazione Papa Giovanni XXIII. Davvero una sorpresa questo Aroncalli giornalista, giovane, che scrive incessantemente su questa rivista diocesana, che è tuttora in vita, e scrive con un'attenzione sorprendente all'oggi, alla gente, ai problemi e alla storia. Per esempio qui abbiamo l'evidenziazione e la sottolineatura anche della capacità di scrittura, di ricerca storica, ma anche di cronaca di un giovane sacerdote che si sentiva anche nella veste di portavoce del Vescovo Radini Tedeschi.